Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questi spazi di approfondimento, approfondimenti dedicati alla politica come avviene di consueto ultimamente proprio perché ormai siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale che si avvia a conclusione con la votazione, proprio con l'Election Day. Conosciamo ulteriormente, come abbiamo fatto anche in passato attraverso il suo pensiero, uno dei candidati, diamo subito il benvenuto a Massimo Seri, sindaco uscente nonché candidato e ricandidato a un approssimo mandato. Allora, Seri, abbiamo conosciuto nelle passati incontri la sua difesa del Santa Croce, quali sono stati gli argomenti che ha messo in campo per non farlo chiudere e soprattutto per svilupparlo anche con nuovi presidi. Però immagino che ci sia una visione di Fano per i prossimi cinque anni, appunto nel caso di un secondo suo mandato. Sì, beh, intanto io ho alle spalle cinque anni da sindaco, di amministrazione di questa città. Sono stati cinque anni molto intensi, dove abbiamo cercato di guardare al futuro, di pensare ad una città ambiziosa che potesse raccogliere le grandi sfide e raggiungere gli obiettivi importanti. Quindi un percorso iniziato significativo, ma che sotto certi aspetti vuole essere un ponte con un nuovo mandato, con nuovi obiettivi. Siamo partiti da un lavoro importantissimo che non si era mai fatto nella nostra città. Siamo partiti con un piano strategico, perché se noi vogliamo costruire la Fano del futuro, una Fano moderna, in chiave europea, quelle città che non guardano soltanto al quotidiano, ma guardano ad una città ben organizzata, una città bella, una città che dà valore ai propri spazi, che pensa ai servizi, bisogna avere un quadro e una visione ben definita. E noi abbiamo fatto, abbiamo elaborato un piano strategico. Penso che siamo l'unica città, non capoluogo, che abbia fatto un lavoro di questo tipo, molto importante, partecipato, che ci ha dato delle indicazioni molto significative che guarda la Fano del 2030. A che Fano pensiamo? Pensiamo ad una città bella innanzitutto, con tutte le sue declinazioni, quindi è una città riqualificata, ma curata, che attenta anche al particolare, che attenta alla persona. Una città che è anche sensibile, accogliente, che prende per mano chi rischia di rimanere indietro. Ma pensiamo anche alla città della cultura e della conoscenza. In questi anni abbiamo fatto una crescita importante, anche sotto questo aspetto, ma vogliamo ancora crescere e far sì che Fano sia sempre più protagonista. La città del benessere. In questo sono tanti gli aspetti. Il benessere del vivere bene, il benessere di una città organizzata che non guarda soltanto al proprio centro storico, ma che guarda ai quartieri, alla periferia, in una strategia, in una pianificazione importante che passa anche attraverso un piano regolatore ripensato a quelle che sono le dinamiche di oggi, superando magari anche gli errori del passato. La città dell'innovazione e dello sviluppo. Questa è un'altra sfida importante che non ho trovato anche in altri programmi ed è ambiziosa. Una città digitale, una città che è sempre più tecnologica per agevolare anche attraverso determinati servizi la vita quotidiana dei cittadini, anche il rapporto con l'amministrazione. Una città che punta sulla ricerca. Voglio ricordare anche un obiettivo importante raggiunto come quello alla nascita di un centro di ricerca internazionale nella nostra città, dove c'è ricerca, dove c'è innovazione, ci sono anche altre opportunità. Quindi una città che pensa anche alla sua economia, alle sue attività produttive, ad un supporto che sia in termini di attrattività, di finanziamenti, investimenti, ma allo stesso tempo anche di dare nuovi stimoli e nuove occasioni date anche da queste attività. La città del riuso e della riattivazione delle risorse, anche questa è una sfida importante, una città sostenibile, una città attenta all'ambiente. Noi sappiamo benissimo quelle che sono le emergenze di questa era moderna. Quella ambientale ormai è nell'agenda di tutti gli organismi internazionali e mondiali e di tutti i paesi. Su questo abbiamo già fatto molto in questi cinque anni, anzi ci siamo resi anche protagonisti innovativi, ma non ci vogliamo fermare qua, su questo vogliamo proseguire. Quindi un programma ricco che non si ferma, per chi lo legge, nei singoli temi, nei singoli particolari, ma su grandi obiettivi, su una visione di città che vuole essere sempre più moderna, ma soprattutto anche sempre più vicina al cittadino. Non è un caso che io abbia scelto anche così come parola chiave a fianco al mio nome il sindaco delle persone, perché un sindaco deve avere una visione, una strategia, deve essere competente perché fa la differenza, ma allo stesso tempo deve essere umano, con un rapporto costante, diretto e vicino al cittadino che rappresentiamo. Bene, una visione direi molto europeista di Fano, però immagino anche che ci siano dei progetti, c'è una progettualità alla base di questa visione così ampia e soprattutto innovativa. Sì, come dicevo in questi cinque anni i progetti sono stati tantissimi, tanti gli investimenti e tanta la capacità di trovare risorse aggiuntive. Siamo partiti con un percorso di riqualificazione della città nel suo insieme, partendo e passando attraverso i quartieri dove tanti sono stati gli interventi e su tutti i quartieri. Poi è chiaro che le cose da fare sono ancora tante perché la qualità della vita si misura anche dove viviamo. Siamo partiti per rendere la città più bella e più attraente con un percorso attraverso interventi di riqualificazione importante, l'ultimo proprio di questi giorni, il Pincio che è ritornato a splendere e a emozionare. Io veramente in questi giorni sono orgoglioso delle scelte che abbiamo fatto e anche di questo investimento che fra l'altro era stato molto criticato, ma oggi alla luce del sole e della notte con l'illuminazione del Pincio, del Bastione, di tutta l'area dei giardini Roma hanno dimostrato che è stata la scelta giusta e vi è stato un apprezzamento. Ma questo cosa significa? Significa che questi spazi oltre a diventare più belli diventano luoghi di aggregazione, luoghi di vivacità, luoghi di attrazione ed è un percorso che noi vogliamo proseguire con idee chiare, con altre riqualificazioni, con risorse fra l'altro che non vengono dal nostro bilancio come la riqualificazione del Palazzo Sant'Arcangelo dove verrà un luogo veramente innovativo e fortemente attrattivo proseguendo con un lavoro di riqualificazione di altri spazi come Piazza Costanzi, Piazza Marcolini, la riqualificazione delle vie del centro, ma non ci fermiamo qua come dicevo, proseguiamo con un'altra sfida importante e c'è quella della riqualificazione del waterfront, cioè il lungomare. Fano è rimasta indietro agli anni 80, a salvo qualche intervento spot fatto negli anni successivi, ma rispetto alle altre città della costa noi parliamo un gap negativo che incide, siamo città turistiche e allora su questo c'è un lavoro importante nel nostro programma che pensa alla riqualificazione di tutta la costa di Fano e dico di Fano partendo da Fosso Segliore fino a Ponte Sasso, passando per il Lido, Sassonio, Torrette e la stessa Ponte Sasso. Abbiamo chiaro anche il percorso con una progettazione, un concorso di idee, ma di quelli seri dove si abbina a chi vince la progettazione esecutiva come stiamo facendo per il Parco, un altro percorso iniziato in questo mandato che si concluderà con il nuovo mandato. Ma guardiamo anche alla qualità della viabilità, alla qualità della mobilità sostenibile con un programma concreto di interventi su nuove piste ciclabili, stiamo lavorando sulla Fano Senigallia, ma stiamo progettando, in alcuni casi abbiamo già appaltato a dicembre del 2018, nuovi collegamenti di piste ciclabili fra i quartieri. Entro il 2020 pensiamo di realizzare anche la ciclabile a fianco, senza compromettere i binari del tratto ferroviario Fannurbino, sicuramente da via Pisacane fino a Serungarina con le risorse già destinate dal Cipe. Quindi veramente in proiezione tanti progetti concreti, non fatti di parole, di chiacchiere, di sogni, ma di proposte concrete con le idee chiare sulle risorse da utilizzare e sui percorsi amministrativi da fare. Ad esempio altro a sfida importante, come se il mandato che abbiamo alle nostre spalle ormai è stato il mandato della nuova piscina, perché questo non è più un sogno, la stanno realizzando, ma sarà il mandato il prossimo di una nuova struttura polivalente, Palazzo dello Sport, struttura che non c'è nella città di Fano, che ci ha penalizzato per organizzare tanti di quegli eventi che portano ricchezza, che portano ricadute economiche, che possono portare tante persone nella nostra città. Quindi tra investimenti passati e visione futura della città ci vuole continuità, quindi immagino per legare insieme tutto il percorso fatto, quello passato e quello futuro. Sì, non ci si improvvisa, fare il sindaco non ci si improvvisa, questo lo vediamo in tante realtà italiane dove ai proclami fatti, agli cambiamenti annunciati, poi se manca la sostanza queste cose non si sono realizzate, poi con la conseguente delusione dei cittadini. In questi anni ho dimostrato competenza, soprattutto concretezza. Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto anche nei confronti di chi cerca di denigrare l'avversario, non mi appartiene questa cosa, io la reputo un elemento di debolezza e una mancanza di progettualità. Però ecco, un altro elemento lo voglio sottolineare. Io ascolto molte volte e sento cose straordinarie che sono il risultato di chi, probabilmente non avendo un'esperienza, non è consapevole delle cose fattibili, dei percorsi realizzabili. Invece io voglio sottolineare che quello che dico è concreto. Io tengo i piedi per terra, sogno, perché bisogna sognare, bisogna vivere anche un'emozione forte e avere una visione importante, come dicevo, ambiziosa per la nostra città, ma senza spararle. Siccome io ci vivo a Fano, lo ripeto spesso, e oggi ogni persona che io incontro la posso guardare negli occhi perché non ho mai detto balle, non le ho mai sparate e le cose che ho detto le ho sempre mantenute. Posso sbagliare perché questo può capitare a tutti, io diffido da chi è sempre il primo della classe. Però ecco, le cose che si dicono devono essere concrete e realizzabili, conoscendo, e questa è la differenza tra chi ha già amministrato 5 anni e vuole fare un secondo mandato che è un valore aggiunto, è una garanzia sia di continuità sia di prosecuzione di un percorso, specialmente come nel mio caso, dopo aver dimostrato di aver fatto tante cose, alcune sono in itinere, quindi il secondo mandato diventa importante, oltre ad essere una garanzia per la città, per essere operativi dal giorno dopo, per continuare e ultimare i lavori avviati, ma soprattutto, essendo operativo dal giorno dopo dell'elezione, essere in grado di proseguire anche sui macro obiettivi che ci siamo dati. Io non ho un motivo pudore nel dire, nel riconoscere che quando mi sono insediato i primi due anni sono stati anni difficilissimi, dove uno deve capire il ruolo che ricopre. Ecco, questa cosa, con la mia conferma per un secondo mandato, vuol dire superare quella fase ed essere, come dicevo, operativo dal primo giorno e quindi con 5 anni veramente operativi per raggiungere quelle sfide ambiziose che ci siamo dati come obiettivi. Bene, allora però ritorniamo a parlare della visione futura, perché questo immagino interesse ai nostri cittadini, questione di giorni, appunto abbiamo visto quanto con le piogge e con gli eventi atmosferici impegnativi l'ambiente sia una partita importante da giocare. Crea una scelta strategica sull'ambiente e anche una gestione delle emergenze straordinaria. Quindi insomma, anche se in passato sono state gestite al meglio, però immagino che anche su questo aspetto ci sia sicuramente una sua visione futura. Sì, l'ambiente sarà un punto cruciale del nostro programma e attività dei prossimi 5 anni. Ambiente significa fare tante opere, significa programmare iniziative che possono poi avere delle ricadute anche su alcune attività produttive. Penso a tutto il tema del risparmio energetico, tutto il tema della riduzione dell'inquinamento atmosferico che c'è, che può richiedere anche interventi, che può rimettere in moto, mi viene in mente anche con la Green Economy, anche il tema dell'edilizia che è uno di quei settori che hanno sofferto molto nel nostro territorio e non solo. L'ambiente è anche conseguenza di cambiamenti climatici che ci portano ad affrontare situazioni difficili che magari in passato capitavano in occasioni rarissime. Oggi in realtà sono sempre più frequenti. In questi anni, io dico spesso, non ci siamo fatti mancare nulla, ma siamo sempre stati tempestivi e sempre pronti, ben organizzati e abbiamo sempre risposto tutelando la nostra comunità e questo penso ci venga riconosciuto, ma non solo ci viene riconosciuto dai cittadini che hanno toccato con mano, ma anche da osservatori esterni. Noi abbiamo veramente un piano, un'organizzazione per l'emergenza straordinaria, fatta anche di tante persone che mettono tanta professionalità e tanta umanità, perché in certi momenti bisogna tener conto anche di questi aspetti, della determinazione e della sensibilità nei confronti delle persone. Però lasciatemi dire, anche in queste ore abbiamo avuto momenti difficili, non è successo nulla e quando non succede nulla si dà tutto per scontato, ma mi piace sottolineare che molte volte non accade nulla o vengono ridotti al minimo i danni, perché magari si è fatta un'operazione di prevenzione, si è stati operativi dal primo istante, da quando partono le allerte. Abbiamo dimostrato anche che siamo lungimiranti e le cose le preveniamo. La polemica così spiccia, perché francamente di chi non ha argomenti io capisco che quando ci si attacca tutto e ci si inventa anche le cose è perché veramente non si sa come confrontarci con chi è concreto. La vicenda della passerella dell'Arzilla, si sta realizzando un nuovo ponte, fra l'altro questa mattina sono partiti i lavori di demolizione per ricostruirlo e a lato era stata realizzata una passerella, non un ponte, una passerella per consentire il passaggio delle persone dal Lido all'Arzilla. E cosa si è fatto? Oggi possiamo dire che si è lavorato bene e si è fatta la scelta giusta. La passerella era in parte più stabile con dei tubi che consentivano nella normalità il passaggio dell'acqua ed è rimasta intatta. È una parte diciamo più fragile dove si era depositata semplicemente della sabbia con delle pedane appoggiate sopra. Nel momento che è partita l'allerta noi abbiamo tolto le pedane dalla sabbia appoggiata sul torrente Arzilla e con l'aumento della mareggiata e con l'aumento dell'acqua piovana che faceva scendere sull'Arzilla ha portato via la sabbia. Quindi non è crollato nulla, ha semplicemente fatto il proprio lavoro e se così non fosse stato oggi saremmo a raccontare dei disastri che si sarebbero verificati in tutta l'area dell'Arzilla perché avrebbe creato un tappo, una diga. Ecco, questa alle polemiche noi rispondiamo con senso di responsabilità, con visione, con prevenzione. Essere sindaco significa anche questo. Per cui ai cittadini dico anche sotto questo aspetto Massimo Seri è una garanzia. Allora, visto questo, le chiedo subito quali sono i primissimi interventi che farà una volta che affronterà il suo secondo mandato. Io ho le idee chiarissime. Dal giorno dopo, come feci già cinque anni fa, io ricordo ancora, mi insediai il mercoledì, il venerdì ero già in regione per affrontare la questione dell'erosione della costa e del porto. Situazioni oggi superate. Quindi dal giorno dopo inizierò a lavorare subito sulla progettazione del waterfront, della riqualificazione del lungomare. Inizierò subito la progettazione e la programmazione per la realizzazione del nuovo palazzo dello sport. Queste sono le due cose su cui inizierò subito perché richiederà più tempo. Ma mi dedicherò anche a quella parte più immateriale rispetto a quelle strutturali, ma fondamentali in una comunità, in una città. Quindi a tutti quegli aspetti sociali, tutti quegli aspetti che riguardano le persone che hanno maggiori fragilità, che non possono essere lasciate solo. Dall'aiuto alle famiglie, dalla situazione della crisi dell'abitazione, perché anche questo è un fenomeno importante che magari chi non ce l'ha non lo percepisce, ma un sindaco attento anche alle situazioni più delicate non le sottovaluta e sulle quali si impegna. Quindi subito lavorare sulla progettualità di quegli interventi che richiedono del tempo e quindi non si può perdere neanche un giorno e su quella parte più di attenzione sociale, ovviamente poi su tutto il resto che sta scritto nel nostro programma e che si deve realizzare nei cinque anni. Quindi ho le idee chiare, rafforzate appunto dall'esperienza di questi cinque anni che sono fondamentali, che ripeto sono una garanzia per il cittadino, sono un valore aggiunto per l'attività amministrativa. Bene, Seri, grazie per essere stato qui con noi. Abbiamo, penso, toccato diversi punti, anche proiettato un po' in avanti la sua visione di città, facendo un trait d'union con il passato e con tutte le opere che lei ha messo in campo con la sua amministrazione. Ci avviamo verso un periodo cruciale per Fano. Sì, io torno a sostenere questo aspetto. Dieci anni sono importanti per ultimare un percorso perché come sappiamo le esigenze e i tempi non sono insignificanti, non si può interrompere e poi ripartire ogni volta. Devo riconoscere, questo mi gratifica e voglio ringraziare anche quelle tante persone che sto incontrando in questi giorni che mi manifestano una vicinanza, un senso di gratitudine e apprezzamento, francamente, che non mi aspettavo. E questo ovviamente mi incoraggia, mi dà energia, mi rigenera nuova passione, nuovo desiderio, nuova voglia di impegnarmi. Quindi idee chiare, concretezza, ma soprattutto immediatezza nell'operatività come sindaco della nostra città. Bene, grazie Seri, grazie per essere stato qui insieme a noi in questo spazio di approfondimenti. Grazie a voi per averci seguito in questo ulteriore momento di conoscenza sul futuro naturalmente della nostra città. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti.